è brutto abbiamo preso un derby abbiamo sempre vinto i derby e quando questo momento doveva arrivare non me l'aspettavo adesso quando avevamo la squadra e la scuola di merda i derby vincevamo sempre adesso che abbiamo una scuola competitiva abbiamo preso il derby che fosse una delle uniche cose negli scontri diretti che potevamo vincere ci siamo andati a perdere e questo invece fa male oltre a quella con la lazio no perché un pareggio va bene però perdere un derby fa malissimo fa molto male però non posso dire niente non mi posso appellare alle assenze anche se quelle fanno peso perché comunque se non ci sono determinati giocatori il gioco cambia però non mi appello a quelle cose non mi appello neanche alle scelte molte scelte sbagliate da parte dell'ambito ma non mi appello su questo non dico niente la cosa che posso dire sull'inter è che in difesa facciamo cagare facciamo cagare apriamo le difese dobbiamo impostare la difesa ok non c'è la schiena non c'è bastoni ma perché mi mettete colarov centrale perché mi mettete colarov centrale il centrale non lo può fare perché mi mettete colarov centrale conte una cosa doveva fare prendevi darmian toglievi pericic mettevi colarov sulla sinistra e mettevi darmian al posto di colarov ora nocchia che comunque un difensore non come colarov che è un esterno non è un difensore così anche d'ambrosio d'ambrosio si sapeva si faceva saltare come le buste le auia andava in velocità è uscito le auia si è fatto saltare pure da krunic che ancora che è molto lento cioè di rispetto a quello c'è una moviola d'ambrosio e che cazzo la difesa fa cagare siamo bene attacco siamo benissimo in attacco siamo benissimo a centrocampo ma la difesa fa cagare fa cagare e mi dovete trovare un difensore a gennaio doppietta di bravinovici che giocatore ha quasi 40 anni questo e fa una doppietta in un derby per la seconda volta l'anno scorso due quest'anno due quattro gol in due derby di bravinovici e quattro gol in campionato sta fa doppietta rientra fa doppietta prima del suo prima del covid fa doppietta dopo del covid fa doppietta è un giocatore fortissimo che come ha detto beppe bergomi può giocare fino a 45 anni nel nostro campionato perché è un giocatore è una sentenza in mezzo al campo è una sentenza ibraimovici è una sentenza perché lui c'è la presenza i suoi agganci i suoi gode importanti lui è tutto è tutto è inutile tutto vabbè non è l'unica partita che commento devo commentare anche napoli atalanta napoli straripante veramente mi andate 4 l'atalanta una cosa mai vista con l'atalanta che di solito del contrario e oggi pagina non mi va di farle è inutile non so già così e niente napoli atalanta 4 a 1 e inter milan 12 queste sono le partite commentate poi vabbè come dato questi due perché le ho viste tutte e due lazio sandora non l'ho vista però comunque la sampdoria ha vinto 3 a 0 con la lazio rispetto alla sampdoria veramente una buona non ho vista la partita quindi non posso dire niente e la juventus non l'ho vista e ha pareggiato 1 a 1 almeno questo per oggi ci sta avessimo vinto oggi ciao